Salve a tutti ragazzi e benvenuti da Cimera in questo nuovo video di Nier Automata Bene sono arrivato al Luna Park perché dobbiamo trovare la terza donna Dunque guardavo gli alcimere da fare ce n'è uno che bisogna cavalcare un animale per 5 km Quindi appena potrò mi metterò un po' a camera a cavalcare tipo un alce finché non compare l'alcimere Che sono questi 5 km Che è un alcimere molto semplice da fare una volta che si ingroppa si va si va finché non compare Quindi non è una cosa è solo nuiosa da farvi vedere ve l'ho solo detta che la farò sicuramente E che farò il mio 100% quindi vi ho detto come fare andiamo a parlare con questa signorina Eh signorina? Sì signorina Ciao conosci una macchina di nome Jean Paul che vive nel villaggio? Il maestro Jean Paul è un personaggio alquanto misterioso C'è chi lo definirebbe addirittura sospetto comunque è così raffinante È affascinante Sospetto È affascinante? Esatto Io ho in mente un regalo perfetto per una persona del genere Glielo consiglierete subito vero? Non permetterò a quella terribile ragazza del deserto di interferire con il nostro amore Ok adesso dobbiamo andare diritti diritti al villaggio Allora io direi che possiamo andare in questa direzione come siamo andati inizialmente No non era questo come al solito io sbaglio strada Dovete aver pazienza con me Quando eravamo andati con quello lì che ci ha fatto seguire dovrebbe essere questo Ok dovrebbe essere qui Andiamo direttamente al villaggio Poi saliamo di qua prendiamo questo ovviamente Perfetto non c'è altro vero? Semberebbe di no Quindi possiamo andare Perfetto Ottimo E andiamo direttamente al villaggio Così siamo a posto E facciamo queste tre queste Poi vediamo come si svolgono Perché non ricordo Mi sembra che ci sia un proseguo E comunque dobbiamo andare anche a dire Che abbiamo riportato la sorellina Oddio c'è qualcosa qui Orecchino è raro Beh fa piacere Che abbiamo trovato la sorellina Poi faremo anche da queste il tipo lassù Quello svittato lo sentito pazzo Ma ci vogliono Siamo a 150.000 Una roba esagerata Per il momento no Ok Perfetto Siamo arrivati E' una strada un po' lunga Però insomma L'unica più rapida Dal Luna Park Che conosco Eccoci qua Siamo arrivati Adesso se andiamo giù qui E' la prima Per andare a parlare con il tipo Dicendogli che Gli hanno portato la sorellina Allora vede qui dovrebbe esserci qualcosa Non c'è un casso Qui ci dà Eccolo qua Beh prendi però grazie Signorina Grazie molto gentile Ok Grazie per aver riportato a casa Mia sorella Grazie al pezzo di ricambio Che ho trovato Che ha trovato Mi sento molto meglio Ti prego di accettarlo Nuovo livello 5.000 gold 700 G5 di esperienza E un astro blu Ecco quello che piace più a me Missione ragazza smanita Completata Se noi adesso andiamo a vedere In oggetti Oggetti chiave No scusate Il materiale ho fatto Oggetti chiave Eccolo qui Nasto rosa Dovebbe esserci blu Qui Equipaggia È più carino Dai Cioè a me piace di più Poi ognuno fa quello che vuole Ovviamente Adesso ritorniamo su Due volte Cioè due scale Dovevamo fare Prima questa Oddio Mi sono Rilassata Mamma mia Mi ho preso uno sprinto Dobbiamo andare su questa E su anche la prossima Che è qui a destra Intanto salviamo Perfetto Posto Andiamo qua Ok Andiamo tutto a destra Siamo arrivati Ecco qua Parliamo Ehi Jean Paul Hai un attimo? Gli attimi sono Transitori Non si possono Possedere Un momento trascorso E un momento perduto È un emblema È un emblema Di immobile Eh? È un emblema Di immobile Ma vabbè Sfrenata Apatia Che Potresti tagliare corto E prendere questo regalo Un dono Fammi vedere Ecco qui Ah sì Affascinante La macchina Che l'ha dato Che l'ha dato Ha detto Che Si Sei tanto Sospetto Quanto affascinante A quanto pare Il dono in questione Non è altro Che un semplice Pezzo di vetro Posso solo Dedurre che Eh? Vuoi che riferisco Che riferiamo Un messaggio Alla donna Che Che ti ha dato Scusate Per un utile Ammanicolo No Va bene Allora Andiamo Ho un altro regalo Per te Un regalo Di che tipo? È un fossile Una delle tue Seguaci Ci ha chiesto Di consegnartelo Capisco Capisco Ha detto Ha detto Che hai Una passione Indescrivibile Per L'apprendimento O qualcosa del genere Un fossile Meccanico Totalmente inutile Vuoi che Le riferisco Qualcosa O Inutile Specco di parole Per la Spazzatura Spazzatura Sopo Non sembra Apprezzare I regali Che riceve Beh insomma Immagino Che dovremmo Dire Alle sue seguaci Che pensa Di loro Esattamente Si aspetteranno Almeno una risposta Ok La missione È stata aggiornata Ok andiamo Dalla prima Che è qua Qui tutta a destra Eh sinistra Scusate Proprio non ci sono Scendiamo Ok E andiamo qui A destra Dove esserci la prima Eccola qui Ecco qui Allora Cosa ha detto Il maestro Della mia lettera Ha detto Ha detto Che non meritava Una risposta Lo sapevo Non è il migliore Quanto lo ammiro No cazzo Ma non mi dire E questa è andata Ok Adesso devo andare All'una par Che vi taglio il pezzo Della strada Perché tanto è inutile Soltanto una Vai avanti indietro Avete già visto la strada Ci vedete direttamente lì Ed eccoci qua Avete dato il mio regalo A maestro Jean Paul Devo sapere cosa ha detto Beh Ha detto che Era un inutile Ammenicolo Che mente Arguta Quanta verità Nelle sue parole Ho una visione davvero unica Ti seguirò fino alla fine Dei miei giorni Maestro Jean Paul È un bel po' di tempo E questo è fuori Come un culo E adesso Vi taglio La trafila Per arrivare Al Come si chiama Al deserto Intanto monterò Su una monta casa Cercherò di fare Con la cima Dei cinque chilometri E quindi ci vediamo Fra poco Ed eccoci qua Siamo arrivati Adesso andiamo a parlare Con la signora qui Andiamo un po' Ehi tu Fattorino Ti prego Dimmi cosa ha detto Il maestro Jean Paul Del mio regalo L'ha definito Spazzatura Che in realtà Non ho parole Che sadismo Gratuito Mi fa E niente È andata così E finalmente La missione del giudato Dobbiamo ritornare Da lui Intanto vi dico Che ho fatto L'alcimetre Della cavalcata Cavalca per cinque chilometri Con un animale a casa Quindi è stato fatto E niente Adesso vado Verso il villaggio Ci stiamo fra poco Ed eccoci arrivati Vediamo cosa si dice Allora c'è Ma dov'è Jean Paul Vediamo un po' Oh ehi Eccomi Se cercate Jean Paul È troppo tardi È partito per un viaggio Un viaggio eh C'è Ha detto Che doveva andare A trovare se stesso O qualcosa del genere Oh ma Vi ha lasciato una lettera Ecco Lettera di Jean Paul Che non ci interessa Assolutamente Recupero C'è la tua Pelle animale Cinque Ottimo Chip Conquista esperienza Più tre Oh ma dopo ci guardiamo E cinque mila di esperienza Ottimo E chi lo sa Allora Vediamo un po' I chip inseribili Imposta personalizzato Tutti i chip Vediamo quello che ci ha dato Che era Conquista ESP Ottieni di cipi Di esperienza in più Degli animali di sconfitti Perché costa tanto Porca L'H17 È un po' troppo 10% in più Per carità Livelliamo prima Potrebbe essere Ecco una cosa buona Per livellare Potrei metterlo Allora abbiamo Tassi rilascio Che dopo vi faccio vedere Come si fa Abbiamo già tassi rilascio P1 a 8 Che l'abbiamo trovato Sicuro Guardate che differenza Questo costa 10 Questo costa 11 Io proverei A mettere questo Da 8 E basta Poi 20% È già parecchio Sì potrei portarlo A 40 A 40 Vediamo un po' Adesso andiamo a vedere Adesso vi faccio Vi spiego tutto Come si funziona Eccetera Così prendiamo anche Un aumento di capienza Perché tanto Ce li ho i soldi adesso Non li ho tanti Però dovevi averne abbastanza Per poterlo fare 116.000 Mi bastano Mi sembra 80.000 costa E ci vediamo Direttamente Accampamento Mi taglio il petto Tanto è solo Sempre la stessa strada E ci vediamo fra poco Ed eccoci qua Adesso vi faccio vedere Vi spiego tutto Allora Vediamo un po' Andiamo a prendere Il chip Dalla signorina Che mi sembra sia lei Così memoria C'è una missione Dopo la prendiamo Compra chip Allora acquista Memoria Ah c'è una 16 A 20.000 La 20.000 Dai ci può stare Ok E prendiamo anche un'altra Vai Prendiamo anche questa Così almeno Le abbiamo prese tutte Ok Allora Fondi chip Vi faccio vedere Come funziona Per fondi chip Dobbiamo prendere 2 Potenza fuoco Più 3 9 Foco più 3 19 Mamma mia Questo aumenta Gli attacchi potenza Del 10% Allora Questa qui Aumenta potenza Degli attacchi Proiettili Mi serve tantissimo Che la vado a mettere Senza proprio indugiare Vediamo un po' 20 per 10% Allora Se io facessi tipo questo E poi lo unissi con questo Il costo L'aumenterebbe Si fonderebbero E ne farebbero uno solo Che sarebbe Un più 4 Come vedete Adesso qui Ma non so se va Ecco vedete Qua da più 3 Passerebbe a più 4 Il costo da 9 Passerebbe a 16 Quindi già meno del 19 E aumenterebbe Dal 10% A 15% E costerebbe Vabbè Il costo di creazione Che non è male Molto Molto buono Solo che Adesso Un 5% Più Mi può anche Lasciare perdere Non mi interessa Perché mi interessa più Che costi 9 E quindi E così Invece il fedente Perché ho detto Che sono importanti Quelli che rombano Perché costano poco Se noi Uniamo due rombi O costerebbe Un punto in più Invece che Se facciamo Un rombo E uno normale Qua ci costa Due punti in più In questo caso Poi vedete Sempre il costo Aumenta In base Alla media Quindi più basso È tutti i due Con il rombo Va a Incidere solo Di un punto Invece quello senza rombo Di due Tre Così così Via dicendo Quindi è molto Utile Usare sempre Quelli con il rombo Quindi bisogna avere Un po' di pazienza Fare molti combattimenti Se voi avete fretta Prendete quello che capita Fate come volete Comunque ricordate Che lo spazio È sempre Molto risicato E quindi È meglio Sempre aspettare Vediamo un po' Questo è rosso Perché Perché Ovviamente Non c'è Da fondere Se è rosso Vuol dire che Non c'è La controparte Infatti Ce n'è solo uno Contraattacco Allora Stavo vedendo Cosa ci serviva A noi Mi sono già dimenticato Cura letale Questo 10% È già rombato Mi fa già piacere Ah forse sono equipaggiati Ecco perché Velocità movimento Molto interessante Perché se no Andiamo a fonderlo Con quello da 6 Ci costerà 6 Vedete Quindi non va A costare di più Di quello già Che abbiamo messo E ci aumenta Del 4% Già il doppio Invece Facciamo questo Ci costa di più Vedete Però Ancora voglio aspettare C'è già velocità movimento 12 Ma costa tantissimo Il tasso rilascio Se noi andiamo a fare Il tasso rilascio E ci mettiamo questo Ci andrà a costare Solo uno in più E ci dà già il 20% Quindi se io facessi Per farvi vedere Unissi questi due Tassi rilascio E facessi sì Poi andassi a prendere Tassi rilascio ancora E lo unissi con l'altro E facessi così Adesso ho due tasse Rilasci più uno Vedete Diversi più uno Allora Io prendo il più basso Da 8 E lo faccio con più 10 Che mi rilascia a più 10 E diventa più 30% Ok? Ok Poi prendo un altro più 10 E lo vado con questo di 10 E diventa 2 più 2 Adesso se io prendo questi qua Da più 2 E lo lascio a questo più 2 Mi costa 12 E ho un 40% Quindi è un'ottima cosa Un 40% Poi per fare di più Farlo al tasso 3 Dove venire questi due Che diventa più 2 Però mi sembra un altro Da più 2 Per fare un più 3 E quindi Dove i compagni degli altri Però già questo È un ottimo Tasso rilascio Ma veramente tanto E io direi Di mettere questi qua Adesso Alla potenza pod Ancora non possiamo farlo Perché ci manca del materiale E quindi lo vedremo Qua Questi qui Li prenderò per completismo Ma adesso Non nel caso E adesso andiamo A equipaggiarci Oddio scusate Così Adesso abbiamo più spazio Quindi andiamo in abilità Programmi pod Poi ovviamente Quando troveremo Quelli con robball Mettiamoli tutti da parte Perché possono essere più buoni Andiamo chip Imposta E adesso ho fatto Tutti i chip E andiamo a mettere Quelli che abbiamo fatto noi Quindi rilascio Dov'è Quello da 3 Che è 17 Però comunque Andiamo È molto buono Per il momento Lo userò Poi quando saremo A livelli altri Non serve più Più di tanto Non serve Perché comunque 10% È sempre molto relativo E comunque Diciamo che questo Lo metto Ma sarà sacrificabile Ecco diciamo così Tasso rilascio Abbiamo detto che c'è Dov'è finito Adesso trovarli C'è il più 3 Non lo dovevi mettere Vicini Eccolo qui Scusate Non l'avevo proprio visto Questo mi dà 40% in più È ottimo Poi Potenza a fuoco Più 3 Che è 10 E io lo metterei qua Perfetto Così siamo a posto Io direi che Meglio di così Non poteva andare E poi ricordiamoci Che questi qua Questo è sacrificabile Perché 17 è troppo Però quando troveremo Qualcosa di meglio Ovviamente lo andiamo a mettere Adesso facciamo così Così abbiamo Più esperienza Più tasso rilascio E E poi qual altro Che ho scondato Comunque già È una buona cosa Poi Per aver spiegato bene Comunque ve l'ho fatto vedere Sia Ha parlato Che video Quindi non dovrebbero esserci problemi Ok Adesso andiamo a fare la quest Che è qua Prendiamo questo Ottimo Vai Quindi voi siete I nuovi modelli Yora Vero? Ora Che lo dici? Sì Credo Che siano I più recenti Hai bisogno di qualcosa? Scoperto che i nuovi modelli Come voi Possono sopportare Praticamente tutto Eh? Potreste anche essere in grado di No no Non dovrebbe Non dovrei Chiedervelo Sarebbe maleducazione Ma Accidenti Ascolta il suo pubblico Perché non ci dici cosa succede Forse potremmo aiutarti Oh beh Se esistete Uno dei miei amici È scomparso Scomparso? Accidenti Dove è stato visto l'ultima volta? Al deposito di materiali Dove lavora? Il deposito di materiali eh? Dovremmo andare a dare un'occhiata Lo fareste davvero? Senza di lui io Vi supplico Ok Nuova missione Andiamo al Magazzino Che è di qua Perfetto E saliamo la scala Andiamo qui a destra E parliamo con lui Vai Perché non posso fare A meno di pensarci? Fare a meno di pensare a cosa? Ah Cosa? Chi siete voi? Siamo della squadra Yorah Anemone ci ha dato da fare Ci ha detto Di fare come se fossimo a casa nostra Oh Va bene Allora Cosa non riesci a smettere di pensare? Oh È solo che Un'amica Ha una scatola Che suona Quando la apri E non riesco a togliermela dalla testa Con la musica È così bella Non ho mai sentito niente di simile E Quel che è peggio Mi ricordo solo la prima parte della canzone Ah Sto andando fuori di testa Come vorrei che tornassi all'accampamento Per sentirla ancora una volta E cerca l'oggetto scompasso Beh Se non l'aiutiamo Non riuscirà mai a combinare nulla Una scatola che emette suoni Strano Analisi C'è un'elevata possibilità che l'oggetto sia un carrion Dovrebbe trovarsi in un'area con della musica Proposta Il Luna Park Locale potrebbe essere un'area idonea La tua logica Lascia un po' a desiderare Pod Però Beh Potremmo sempre provare Provarci Dopotutto Non abbiamo molte altre piste E anche questa Questa È presa Bene Adesso Non prendiamo la questioniamola Perché quella principale Dopo ci potrebbe cambiare qualcosa Quindi non fatelo Oddio Devo scendere qua Perché a volte Prendere queste principali Preclude Fare quelle secondarie Alcune di quelle secondarie Quindi non prendetele Adesso andiamo verso le fogne Perché C'è l'entrata appunto Che abbiamo già preso Per andare a Luna Park Una delle due entrate Quindi da qui è più pratico Prendere quella lì Più vicina Ecco Andiamo di qua Benissimo Vi faccio vedere L'altra strada Siccome è passata un po' di tempo Magari non ve la ricordate O magari non l'avete visto Perché dovete vedere soltanto questa quest Vi faccio vedere la strada Andiamo di qua A un certo punto dovremmo girare a destra Perché c'è l'entrata delle fogne Qui dopo Quando potete Pescate sempre Perché vendere Vi permette di avere molti soldi Molti 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 Ok Vediamo un po' E qui c'è l'entrata delle fogne Il carry on È praticamente La strada che ci ha fatto Prendere la prima volta Per arrivare al Al villaggio Quindi Quindi sì insomma È quella Qui dovrebbe esserci Un item Che non sempre viene Quindi andiamo di qua Poi di qua Quindi è quest'item Perfetto Amegrezzo Che ci servirà Per i potenziamenti Quindi prendeteli Sembrano cose Che non servono Poi quando dovete usarle Effettivamente vi servono Perché Non sapete dove trovarle Dovete andare in giro un sacco Invece Se vedete Mano a mano Che girate È tutta un'altra cosa Le avete già Siete a posto Vi spiegate un sacco di tempo Tanto siete qua Insomma Argento grezzo Eccoci qua E saliamo qui Perfetto E qua c'è l'entrata Del posto Ok Sì di qua Perfetto Quindi questo Grazie Qui c'è un altro item Che adesso non me lo avevo visto Non lo vedo più Buon della pazienza Non è Importantissimo All'itorno Magari lo prendo Adesso andiamo Faccio vedere dov'è Il carrion Che è comparso Perché prima non c'era Ovviamente La questa non c'era Attiva E non lo faceva vedere Allora Qui appena È la strada Che ci ha fatto prendere Il tipo Che quando abbiamo ucciso La marionetta Qui Il boss Questa qui Ok E dovrebbe essere Il compasso qui Questo no E questo Cambia la uscita Poverina È morta molto tempo fa Non c'è più la skin Eh vabbè Adesso facciamo La strada A ritroso Senza Non mi sto annoiare Ma la faccio vedere Tant'abbiamo Fatta già Adesso per venirci E ci vediamo direttamente All'accampamento All'accampamento Della resistenza Ed eccoci qua Siamo arrivati Andiamo a vedere Di consegnare Una delle quest Carrion Vediamo un pochino Che l'avevamo presa Dal tipo qua Se lo ricordo male Vediamo questo qui intanto Benissimo Ovviamente non è qui Perché questo è il tipo scopasso Scusate ma io Ce la posso fare Andiamo di qua Quella della canzone Che non riuscivo A dimenticare qui Eccoci qua Su su grazie signorina Eccoci qua E infatti c'è la quest Scusa Questo è il Carrion Che stavi cercando Sì Dove l'avete trovato Luna Park Accanto ai resti Di un androide Forse era il suo proprietario O Era Beh è tutto 3.000 gold 3.000 gold E 250 di esp E in più ci ha aperto qui Che è una cosa buonissima Allora guardiamo Poi ci salutiamo Abilità Chip Imposta Tutti i chip Anticatena Dovrebbe essere qualcosa del genere No Certo che Se tu mi dicessi Anticatena 3 Invincibile per due secondi Dove aver subito da due secondi Sono tantissimi Ma costa una madonna Peccato Che mi sarebbe piaciuto Se fosse stato sterinato O se fosse costato di meno Ci sta eh Perché ci sta Però Adesso Non esageriamo Se non dopo c'è Devo veramente togliere qualcosa Quindi per adesso Facciamo così E siamo a posto Tanto la roba la troviamo Basta combattere Cominciamo a prendere un po' di cose Ok Bene adesso possiamo Tornare indietro Qui dopo ci torniamo Mi preoccupate Facciamo tutto Solo che vanno fatte per Tempo Tempi determinati Certo e questo Quindi adesso Noi salviamo Ci salutiamo qua E nel prossimo episodio Andiamo A fare questa Igecas Quella lì nel deserto Così andiamo avanti Anche con quella Adesso vado a salvare Appena trovo il punto Che non mi ricordo Ma è qua E nel prossimo episodio Ci vediamo direttamente Davanti al All'accampamento Nell'inizio del deserto Dove c'è Igecas e quell'altro Ok Quindi ragazzi Come al solito Vi invito al Sarulac Che è assolutamente Un commetto Mi raccomando Lassatolo Per farmi sapere Cosa ne pensate Adesso in assoluto La cima Ciao ciao